La grande sfida lo si dice di solito pensando di perdere qualcosa, è come se pensassimo alla sfida della Coppa dei Campioni del 3 di giugno, è una grande sfida, è una sfida perché puoi perdere o vincere. Noi tendiamo a pensare che la sfida che il mondo ci lancia sia una sfida in perdita, no, tu chiesa che accetti la sfida puoi vincere ma vincere nel senso di offrire alla cultura un modo di rileggersi autentico, profondo, che la valorizza. Le grandi sfide non sono minacce ma luoghi in cui si può fare un passo avanti. E tutto ciò che è sfida pretende una rilettura della tradizione. La sfida non è abbiamo la tradizione tutta compiuta e il mondo moderno ci sfida cercando di alterarla, rovinarla, diminuirla. Questa è un'idea distorta. La sfida ti mette in crisi ma ti permette di leggere più profondamente la tua stessa tradizione. Facciamo un esempio. Una tipica sfida della modernità è stata l'idea che la donna abbia gli stessi diritti dell'uomo. La chiesa per 80 anni ha fatto la guerra frontale a questa idea. Dicendo se noi accettiamo che la donna faccia sport come l'uomo perdiamo la differenza tra quello che fa l'uomo e quello che fa la donna. Non mi sembra che sia questo l'esito. Le donne fanno sport a modo loro, gli uomini fanno a modo loro, ma entrambi i sessi possono vivere la dimensione sportiva. E questo arricchisce la tradizione anche ecclesiale. All'inizio sembra una crisi dove si perde soltanto. Con il tempo capisci che non solo perdi ma anche vinci. Vi ho fatto un piccolo esempio, ma ce ne sono tantissimi, dove appunto noi abbiamo usato un concetto di sfida negativo. No, il concetto di sfida ti obbliga a rileggere la tradizione a cui tieni tanto, giustamente, ma che magari capisci solo fino a un certo punto. E qui le parole di Giovanni XXIII sul letto di morte sono famosissime. Noi non vogliamo con il concilio cambiare o sminuire il Vangelo, ma vogliamo fare un'esperienza dalla quale emerge che cominciamo a capirlo meglio. Sono parole profetiche che nelle sfide non si è in gioco, la minaccia a una comprensione già compiuta nel Vangelo, a una spiritualità già pienamente adeguata, ma un percorso di raffinamento, di approfondimento spirituale. E per finire questo passaggio voglio dirvi, questo magistero positivo ha un aspetto negativo, nel senso tecnico del termine. Il magistero negativo è un magistero che si autodelimita, che non vuole dire tutto. E questo è già anticipato in Omageli Gadu, ma in Amoris Laetitia è detto aperti sverbi, sei in numeri 2 e 3. E poi ripetuto in numeri più avanti, ma nei primi numeri 2 e 3, Amoris Laetitia dice apertamente è sbagliato aspettarsi che il magistero risolva tutte le questioni. Questo è quello che il magistero ha sempre letto per 1800 anni e che dal 1800 ci siamo cominciati a dimenticare. Come se il Papa dovesse dirci anche se dobbiamo fare fotografie durante la messa, che tipo di scarpe dobbiamo metterci, se dobbiamo fare preferibile equilacci o mocassini. L'idea che il magistero debba dirti tutto nei dettagli è un'idea recentissima. Francesco e il signor dei Vescovi reagiscono pescando in una tradizione... Musica 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 Musica